Nove giovani, sette minorenni e due maggiorenni sono stati denunciati a piede libero per la rissa che si è scatenata probabilmente per futili motivi all'esterno di un locale nei pressi del porticciolo di San Leone, l'ido balneare di Agrigento. A tutti i giovani è stato anche applicato il DASPO per effetto del quale gli indagati non potranno prendere parte a manifestazioni sportive né come spettatori né tantomeno come partecipanti per un periodo compreso tra i due e i tre anni. La polizia è riuscita a ricostruire con precisione i dettagli dell'accaduto grazie alla diffusione di un video della maxirrissa che alcune persone presenti sul posto hanno realizzato con gli smartphone per poi diffonderlo in rete, facendolo diventare virale. Dalle immagini è stato quindi possibile individuare le persone coinvolte che risultano essere senza precedenti alle spalle. Adesso si attende che la procura ordinaria di Agrigento e la procura dei minori di Palermo competente sul territorio agrigentino per i reati riguardanti persone minorenne chiudano le indagini.